buon pomeriggio a tutti e bentornati sul mio canale allora amiche mie oggi un video spacchettamento perché mi è arrivato un bel pacchetto da un'azienda che si chiama savagory e questa azienda mi ha dato un budget di cui dovevo scegliere delle cosine e io ho scelto quattro bellissime t-shirt che adesso vi farò vedere allora erano aspettate erano davvero tantissimi modelli da scegliere con la manica corta con la manica lunga con felpe cappuccio c'era veramente l'imbarazzo della scelta siccome sta arrivando l'estate e quindi io ne ho scelte quattro tutte quattro a maniche corte allora come taglia ho preso una m e ne ho aperta una e sinceramente penso proprio di aver preso la taglia giusta ma adesso li vediamo insieme allora questa qui è la prima che questo bellissimo rosa e si presentano in questa confezione qui apribile così quindi comunque molto molto comoda anche da riutilizzare oppure magari quando andiamo in vacanza possiamo metterci appunto di nuovo le magliette all'interno e portarcele con noi allora vi faccio vedere la prima prima di iniziare vi voglio ricordare che nell'info box poi vi lascerò tutti i dettagli c'è anche un codice sconto che si chiama gesg 17 che potete avere il 20 per cento di sconto per sempre quindi è sempre attivo questo codice sconto vabbè io comunque vi lascio tutto in info box allora la particolarità di queste magliette appunto sono proprio le stampe e io credo di aver preso delle stampe molto molto carine e come vi ripeto ne ho aperta una sola quindi non è che ricordo bene le stampe che ho preso poi magari alla fine del video ve le farò vedere anche indossate allora la prima è questa qui aspettate eccola qui allora la prima che ho preso è questa guardate com'è carina mi piace il colore devo dire che il materiale è veramente fresco e poi le cuciture sono perfette guardate che bellissime le cuciture allora questa qui è la prima troppo troppo carina ma andiamo avanti perché vi faccio vedere la seconda allora ragazzi questa qui non l'ho proprio aperta quindi non ricordo nemmeno la stampa che ho preso comunque vi invito veramente a dare un'occhiata a questa azienda ragazze perché non sapevo che cosa scegliere allora questa qui è un bordeaux molto molto carina faccio vedere guardate che bella troppo troppo bella eccola qui faccio vedere bene allora ragazzi sto registrando in questo modo perché i ragazzi non sono andati a scuola in questi in questi giorni non sono andati a scuola e quindi non posso registrare nella mia camera su ma andiamo avanti eccola qui anzi questa qui ve la lascio per ultima perché la mia preferita questa qui bianca allora apriamo questa qui questa qui è un verde militare sempre la solita apertura eccola qui tata guardate che bella con il cuore vi ricordo che io ho preso una m quindi regolatevi un pochettino voi conoscendomi fisicamente come sono fatta dalla mia diciamo dal mio fisico così potete capire più o meno la vostra taglia dopo ve le farò vedere comunque indossate guardate che bella troppo troppo bella anche questa qui allora e adesso vi faccio vedere la mia preferita che questa qui bianca l'ho presa bianca allora apriamo la allora la stampa di questa qui mi ha colpito tantissimo eccola qui come l'ho vista e proprio mi piaceva proprio bianca con la stampa nera che risalta appunto la donna eccola che guardate che bella ragazzi mi dovete dire poi alla fine qual è la vostra preferita e qual è il vostro colore preferito guardate che bella e bellissima questa maglietta allora come vi dicevo la mia è una m ma anche le cuciture sono perfette perfette guardate che bella questa troppo troppo bella grazie vi ho fatto vedere lo spacchettamento delle quattro maglie adesso che cosa facciamo l'indossiamo vi lascio un video finale appunto per vedere come calzano queste maglie ciao 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 allora ragazzi eccomi ritornate da voi spero tanto che il mio video vi sia piaciuto fatemi sapere qual è la vostra preferita quale vi è piaciuta di più quale delle quattro t-shirt mi sta meglio sia come colore come come stampa ditemi quale vi è piaciuta di più indossata appunto da me io ringrazio l'azienda per aver collaborato con me e niente noi ci vediamo in un prossimo video vi ricordo di dare un'occhiata all'info box ciao